eccoci qua eccoci qua un caro saluto a tutti voi amici del canale youtube riprendiamo con un video da milanello perché ci sono delle buone notizie una buona notizia che aspettavamo da settimane da mesi perché l'attesa è stata molto molto lunga prima di parlare di questo argomento vi invito come sempre ad iscrivervi al canale è fondamentale mettete like attivate la campanella e ora siamo pronti per parlare di uno degli argomenti di questo contributo video allora qual è la bella notizia la notizia positiva è il rientro al centro sportivo di milanello da parte di ismael benasser benasser che si era infortunato nell'euro derby purtroppo è andata male contro l'inter in champions league in quell'euro derby dopo 17 minuti di gioco si fa male benasser subito mi ricordo ai tempi si era parlato di un qualcosa di grave infatti l'infortunio era la cartilagine del ginocchio un qualcosa di estremamente lungo e fastidioso si prospettavano all'epoca 5 6 forse se non sbaglio 6 mesi di stop e dopo 5 mesi benasser oggi è rientrato al centro sportivo di milanello sono passati 5 lunghi mesi tutto praticamente se contiamo dal 10 di maggio tutto il mese di maggio giugno luglio agosto settembre e ora al 16 di ottobre lunedì 16 ottobre segna la data di inizio di un nuovo percorso per benasser perché il suo rientro a milanello spieghiamolo non vuol dire che fra una settimana giocherà con la juve o col parisagio almeno o col napoli l'iter per il rientro di benasser in campo è ancora un po' lungo però da 5 mesi era praticamente lontano dal campo di allenamento era fondamentale per lui riprendere confidenza con le strutture del centro sportivo ritornare a milanello per fare un nuovo percorso individuale personalizzato di lavoro un percorso atletico diverso quindi è un inizio voi direte sì ma manca ancora tanto tempo per il rientro di benasser in campo come giocatore è vero ma da qualche parte doveva pur cominciare il buon benasser e ha cominciato oggi a lavorare in maniera personalizzata e individuale con un preparatore specifico che lo aiuterà in questo percorso atletico e fisico per riprendere dunque l'attività sportiva tra qualche settimana qualcuno dice metà dicembre qualcun altro prevede il rientro in campo a inizio gennaio qualche male lingua dice anche tornerà per la coppa d'africa però ci auguriamo con tutta sincerità che dopo un periodo così lungo di attesa e un periodo così lungo dove il milan ha dovuto aspettare uno dei protagonisti della squadra almeno benasser non dico che rinuncia alla coppa d'africa ma non abbia in mente il ritorno per andare in coppa con la sua nazionale ma ritorna per giocare col milan cioè il focus deve essere sempre il club il milan benasser manca tanto a questo milan soprattutto perché è lui il regista titolare immaginate questo centrocampo con benasser al 100% della forma fisica servirà ancora tempo però immaginate magari verso marzo quando entrerà in forma benasser metà marzo magari e immaginate con benasser in cabina di regia reinders a sinistra loft to cheek a destra eh signori è un gran bel centrocampo centrocampo formato di geometrie ovviamente benasser è il maestro in queste cose di inserimenti pericolosi vedi reinders ma soprattutto loft to cheek è un centrocampo anche atletico un centrocampo anche forte fisicamente perché c'è loftus l'inglese che dal punto di vista atletico non ha nulla da invidiare ad altri giocatori quindi l'attesa per il rientro di benasser sul campo non è ancora conclusa ma oggi è un primo importante step un primo importante passo per il rientro del giocatore algerino ribadisco sono passati cinque mesi non due settimane cinque mesi da quando benasser si è infortunato nel derby contro l'inter in champions e oggi per la prima volta torna a milanello credo che servirà almeno un altro mese un mese e mezzo per rivederlo tra i convocati è vero ha anticipato qualcosina qualcuno dice che poteva rientrare tra due settimane anticipato di un paio di settimane ma comunque serve ancora tempo e non bisogna assolutamente affrettarli questi tempi ieri nell'intervista di Zlatan Ibrahimovic al festival dello sport della gazzetta dello sport gli è stata anche fatta la domanda sul famoso colpo di tacco di Leao contro il Newcastle no c'era il giornalista Garlando della gazzetta che aveva di nuovo provato a paragonare Balotelli a Leao e Ibra subito lo stoppa lo ferma e dice no 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 non si può neanche paragonare Balotelli a Leao se fa gol lì è un genio solo i geni capiscono cosa devono fare lì per questo lui è al Milan e Balotelli è in tribuna Ibrahimovic mette Balotelli e Leao su due piani totalmente diversi su due piani completamente opposti e lo fa giustamente perché in effetti Balotelli quel colpo di tacco lo sbaglia ma perché pensava magari che il gioco fosse fermo era un amichevole col Manchester City sto dicendo mentre Leao probabilmente aveva poche altre chance in quell'occasione poteva calciare ma il tiro sarebbe stato comunque difficoltoso era in una posizione molto particolare dopo aver saltato tra i quattro uomini Ibrahimovic però non può dice no non bisogna paragonare Balotelli a Leao sono due categorie diverse risponde Balotelli risponde a Ibra e lo fa anche in maniera goliardica e i due hanno giocato comunque insieme e lui dice a Manchester avevi paura e io volevo vincere l'anno dopo la Champions l'abbiamo vinta perché Zlatan però Zlatan ti voglio bene lo stesso nel senso l'abbiamo vinta senza di te la risposta di Mario Balotelli è Ibrahimovic però poi su una cosa i due sono d'accordo Balotelli dice Ibra su Leao ha ragione è un fenomeno è l'ammissione stessa di Balotelli che si è un po' risentito di questo paragone che ha fatto Ibra però ecco su Leao da tutte le ragioni a Zlatan Ibrahimovic sono due giocatori di categorie diverse è vero Balotelli ha vinto la Champions però sinceramente non è una questione di vincere o non vincere la Champions è fondamentale per la carriera di un giocatore ma parliamo di due giocatori completamente diversi con due teste diverse Balotelli purtroppo ha avuto la sua carriera ha sprecato tante possibilità poteva fare molto di più Leao è nel pieno della carriera e se riesce a mantenere questo livello alto può fare davvero cose grandissime in carriera però su questo Balotelli ha dato ragione a Ibraimovic su Leao ha ragione Zlatan è un fenomeno quindi almeno su questi due ex compagni sono comunque d'accordo sulla situazione di Rafa Leao detto questo ragazzi vi saluto vi ringrazio come sempre un abbraccio a tutti ci sentiamo nella giornata di domani quando il Mian riprende ad allenarsi dopo due giorni di pausa oggi e ieri il Mian non si è allenato domani capiremo meglio le condizioni di Loftucic Krunic e Kalulu in vista della partita contro la Juve a proposito di Juve Danilo ha un problema muscolare una lesione di basso grado il giocatore della Juve il difensore della Juve dovrebbe saltare la partita contro il Milan